Mattanza appartiene a un ciclo di opere che ho dipinto in giro per la Sicilia, dalle montagne al mare. E proprio al mare ho visto attraccare un peschereccio che scendeva dei tonni e lo sguardo di questi tonni mi ha colpito. E allora l'ho riprodotto su questa grande tela. Questa tela, il protagonista essenziale è il mare. E nel mare ci sono i suoi guerrieri, questi guerrieri che sono i tonni, che nuotano all'interno di questa rete, intrappolati, e vanno verso il loro destino. Ma non è solo un destino di morte, ma è anche un auspicio al mare che ritorni a essere prolifico. E questo è il messaggio. Il messaggio poi si estende metaforicamente anche a tutta la Sicilia, a questa meravigliosa terra piena di risorse. Risorse che devono essere valorizzate al meglio. E l'arte può essere anche un veicolo per fare tutto ciò. Siciliando ha una serie di fortune, quelle di pescare sempre da questo scrigno che si chiama Sicilia e quindi con i giusti filtri trovare veramente realtà, come quella del maestro Domenico Cocchiara, che oggi ci racconterà questo viaggio in questa mattanza. E non soltanto, perché è un artista poliedrico che fa veramente tante altre cose. Come mai avete scelto di raccontare questo dipinto? Beh, in realtà la Sicilia, come ben sa, è tutto un racconto. La storia ci insegna che veramente è stato fatto tanto. E questa fa parte di una delle, oggi c'è oltre 120 eventi che ha fatto l'associazione e che in questo caso si è indirizzata verso un'opera pittorica. Dobbiamo pure dire che il maestro ha veramente altre, ha fatto altre iniziative, quindi oggi noi ci pregiamo di ospitarlo a Palermo, grazie anche alla collaborazione della Galleria delle Vittorie con i suoi rappresentanti che ci danno la possibilità di portare quest'opera in città. Siamo ad inizio d'anno, quindi avrete già fatto un calendario delle prossime iniziative? Sì, il calendario uscirà nei prossimi giorni. Partiremo dopo l'inaugurazione proprio di questa mostra oggi poveriggio, il 19 gennaio con Palermo ebraica. Sarà, diciamo, ripeteremo un po' una di queste passeggiate qualche giorno prima della giornata dello Shoah e quindi daremo questa prima, alla città consegneremo questa prima passeggiata culturale. Poi sarà la volta del Serpotta di Palazzo Steri, sempre le passeggiate. Qualche chicca l'anticipiamo, tanto lo vedremo poi nell'elenco del Palinzesto. Ci sarà questo nostro spostamento all'interno della Sicilia, esattamente a Noto, a fine marzo. E poi culminerà anche nell'isola di Favignana con il percorso dei Florio all'interno proprio della struttura che chiaramente li ospita. Quindi questo e tanto altro ed usciremo nuovamente col nostro calendario che era atteso dopo un anno, però adesso portiamo. E tanto altro così magari diamo qualche piccola ancora pillola di suspense prima di dare tutti gli eventi.